Amici, oggi abbiamo avuto un'idea di merda. Veramente la migliore che hai avuto in un po' di tempo. Vabbè, un'idea bellissima, ma allo stesso tempo altrimenti stupida. Porteremo dei pick totalmente inusuali e stupidi, in ranked, con un rank medio di 4.000, più o meno. Giocando però seriamente. È venuta un'idea! Quindi rimane a decidere che cazzo di pick portiamo. Prima facciamo col Bastion. Bastion, Orisa... Torno con Bastion e Orisa, facciamo una nave dei pirati. La nave dei pirati. Ascolta, Orisa, Reynard, Bastion. Ne facciamo a conchiglia. Tipo il Bastion in mezzo, Reynard davanti e Orisa. Facciamo il tortellino. Bellissimo. Impenetrabili. Io gioco il Bastion. Io gioco Reynard, tu giochi Orisa. Perso. Ma che perso? Perché noi gioco Orisa. Esatto. Vabbè, ci proviamo a carriare. Amici, io non ho mai giocato Orisa, quindi sarà una bella esperienza anche per me. Immagino. Non per noi, però fa niente. Vabbè, vediamo come andrà. Andiamo a giocare? Sì, come si fa lo scudo con Orisa? Vabbè, dai. Non si fa i livelli. Go! Madonna mia, si stompano. Li-Jung. Beh, stiamo trollando? Vogliamo provare lo stesso anche qua? Mi pare un po' una cagata. Dai, dai, si prova. Proviamo. Let's market, si può fare let's market. Il problema è a Garden. Beh, è a Garden mi fa schifo sta comp, ma possiamo giocare. Poi vabbè, il problema principale sarà l'orisa di Beretta, ma questi sono dettagli. Beh, dai, Beretta... Farà Favilla, sono sicuro. K. Non è sicuro. Non è sicuro. Go, go, go! Speed boost! Andiamo diretti sul punto, va? Go right side, right? Questa è distruggente. Quickly! Oh, come... Oh, c'hanno... K. Oh, c'hanno scoperto. No, c'hanno... Junkrat, c'hanno scoperto. There we go. Where's there, Doris? E uno! Massi, è stato. Allì! Oh! Nice, guys! Oh, Renan, Renan, qua! Vistro, Vistro, Vistro! Oh, rimasto qui! Nice, guys! Vistro so fucking good! Eh, venendo fin dietro! Punto, punto, punto! Non ci scordamo! È vero il punto, me la dimenticavo. Tattica base, però... Mettiamoci tipo qua. Dove? Dove sei? Mi posso prendere neanche la dietro. Tranquilla. Però andiamo dall'altra parte. Allargati, Beretta. Andiamo dall'altra parte, Fra. Guarda, dove sono? All'altra parte, Fra. Vanno sul punto, vanno sul punto, dai. Andiamo direcchio, sul punto. No shield, per quanto scordi. Vai, 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 vai! No! Sono caduto! Guarda, uno! Nice, guys! Nice! Ecco, BAM! Oh, che vero! Ho preso i bassi la risa! Impossibile a perdere! Oh! Ho morto già il boss. Mi sa che hanno abbandonato già l'idea. Oh! Mi prendo la cosa! A fare uno. Dove sono? Sinistra. Sto lasciata, no? Ma che stanno copiando a strato. Si, si, stanno copiando prese e veste. Madonna, guys! Me la sento, me la sento! Oh, andiamo! Ma che cazzo è successo? Vai vai, Loris! Oh, non si può perdere! Si può perdere, no! Si! 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 Mi ha fatto un po' di e- TiHai disposto! Ho! Ho, ho! Ho, ho un altro shield! BASTION! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Stanno andando in point, stanno andando in point Oh, hanno altri e ti versino, è la nostra Oh, sto andando sul punto Porto, porto Point, point, point Merda, merda Punto, punto Bastardo Che facciamo? Oh Oh, nice job Bellissima New meta, guys New meta Uno, zero Ma non mi è troppo bello Sto cazzo di game Oh mio dio, è un gatto Nooo Però il ponte è fortissimo, Eurisa, è straforte sul ponte Ho capito, però se prendono a fare ci buffano di sotto A me non mi possono buffare nemmeno Just saying Beh, insomma, se non arrivo in tempo sul punto è il cazzo Vabbè, ma noi spediamo No, 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 go right side Spetti Andre, sei attento con lo shield Eh, ci provo Faccio in miracoli, qualca p***ana Devi We can counter it We can counter it With the shield Two, one Now, two Capture Hit boost Hit boost Oh Bello, no? Dove cazzo le piersate? Lo shiiit, 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 shiiit Oh Eh, l'avevo tirato la parte Ti sto, oh Ti copro, ti copro No 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 Ma mi sentite in game, eh? Queste Si 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 Ma Ti No No team Zarya no shield Zarya su di me Oh dai Vai più aggro, vai più aggro, bene Bella sto shutter cazzo Quello lì mi devi spiegare perchè ha preso il Reaper contro il Bustle Non lo so Yolo Madona la fara Oh il Genji è pazzo Back Genji, back Oh Come here, come here Oh Ripper Ripper Ripper, Ripper, Ripper Ripper, Ripper Ripper, Ripper No, non ho shield Ok, reset Oh no no, che ho reset Ho perso Vabbè, è arrivato Go left side Venca mia Go 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 Tutto C'è ancora la fara in volo Alla fine ci sta usare tutto Alla fine questa campagna è importante ripetere il Bustle Che è difficile Poi per il resto è facile da tenere Ancora una fara dietro? No vabbè Vai, vieni Oh quello! No, f*** No, f*** Madona che schifo di Ripper Scrappi Se diciamo con risa è bad Ti ho fatto la scatta da Go 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 Dove sono in team Razzmi No Scrappi 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 Nooo Vabbè Scrappi E infatti abbiamo perso Reset Reset Vabbè fate cagare e basta C'è semplice Eh perchè non abbiamo calcolato l'ultimo tesoro No No La facciamo? Ci da passare? Chi che manca? E' io Oh sono qua, sono qua, sono qua Go 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 There is auto position Cazzo Go 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 Ripperlo? Got it Got it Oh Ho vinto ragazzi Ormai Cazzo 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 Very good game Se sei forte sali E' vero allora la cosa Beh Ha funzionato raga C'è niente da fare Oh Ma Un po' Pure Pure Play of the game E' difficile hai fatto fatica Oh no Che skill Che capitano Ah ma no no Carriato Carriato duro guys Troppo forte Un po' forte Beh Easy easy Neanche le carte ti han dato Da quanto fai chiare Ma niente non mi servono le carte Oh votiamo sto milo dai poverino Saremi di tot C'è il buco del tavolo Quello è il buco del tavolo Hai spento il pc Quale è il buco del tavolo? Quello dove stai mettendo i 5 allo sulla tastiera Ma che cazzo guardi Te li rimetto dai Mi sta venendo Si ok ma farli rimetti dentro i 20 Mi alzo Cazzo 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 Ce l'abbiamo fatto amici Tu non hai fatto un cazzo Hai fatto schifo Le peggio E mai viste in vita mia Comunque ce l'abbiamo fatta Mi sono divertito un botto Io no Porteremo di nuovo sto formato Però che cazzo porteremo La prossima volta ci sarà sempre qualcosa da portare Finché esiste un meta C'è sempre l'antimeta Se avete qualche idea geniale Noi siamo qui per provarla Speriamo che il video vi sia piaciuto A me è piaciuto un sacco Siamo divertiti noi a parte Beretta perché è autistico Porteremo quasi sicuramente di nuovo questo format Perché è l'unico divertente che c'è Da quando abbiamo cominciato a fare questo genere di video Stai fermo Se avete idee Ce le proponete Noi proveremo di tutto Siamo qui per provare Ci sta Stai fermo Madonna mia Ciao a tutti Non vedo l'ora di levarmi dalle Beretta e dalle palle Ciao 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 Grazie a tutti.